Il presidente uscente della Repubblica Ceca, il filorusso Milos Zeman, ha vinto le elezioni battendo di 4 punti percentuali il ex direttore dell'Accademia delle Scienze, il filoeuropeista Giri Draus, e quanto emerge dopo che è stato ultimato lo scrutinio di circa il 95% delle schede. A Zeman attribuito il 52% dei voti rispetto al 48% di Draus. L'affluenza registrata alle urne del 66. 5%.